Ciao, mi chiede la Madmas.it. Allora, come dicevamo prima, dopo otto stagioni di American Horror Story, ho deciso di prendersi una pausa. In questi anni lei ha interpretato tanti personaggi particolari intensi. Guardando indietro negli anni, quale di questi personaggi della serie l'ha colpita particolarmente, quale invece ricorda con mio entusiasmo e a cosa e a chi si è ispirato per la realizzazione di questi personaggi? Edwin Montt è stato un' che mi ha sempre stato fatto a me, anche se ho un po' di tempo per questo. E' stato un mondo, 17th e 18th century, è molto fascinante, e a fare qualcosa di e soprattutto il modo che viveva il suo lavoro era interessante e difficile ma ho visto molti film per ricerche e ho visto molti film per ricerche e ho trovato un po' molto divertente è un simile con Mr. March ho trovato un po' molto divertente ho aprendo un po' Art Deco e went a downtown L.A. e ho trovato un po' di bambini e ho trovato un po' di immagini e ho trovato un po' di architecture e ho aprendo molto a me in questi roles e ho anche le cose di più del risultato e che sono questi fondamentali sono molto divertenti e credo che Kyle, da S. 3, era molto difficile perché era un problema che abbiamo lavorato con lui e ho trovato un po' di creare 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 ma al stesso tempo è molto divertente e ho trovato un po' di creare 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 come si parli e ho trovato un po' di creare Poi ho visto anche dei film insomma, anche se il mio personaggio alla fine forse non sono riuscito ad arrivare a fare qualcosa del genere, però in effetti non è stato scritto in effetti per arrivare ad assomigliare qualcosa del genere, quindi diciamo un sacco di personaggi mi sono rimasti nel cuore che gli hanno fatto a scuola. Grazie